Buongiorno, bentrovati appuntamento di mercoledì 5. Il 5 luglio 2017 con la nostra consueta rassegna stampa che si apre come sempre con le prime pagine dei giornali. Partiamo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro per andare a vedere insieme quali sono le notizie trattate all'interno del giornale. Partiamo dunque con il vedere la prima pagina del centro. Si parla dello sgombero di tre palazzine Ater a Pescara. Qui si parla di rischio sgombero ma dobbiamo darvi una notizia aggiornata proprio delle ultime ore. Perché in nottata, proprio dopo la mezzanotte, al termine di una lunga riunione, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha firmato l'ordinanza di sgombero di tre palazzine che si trovano in via Lago di Borgiano, nel quartiere Rancitelli di Pescara. L'emergenza proprio per queste tre palazzine in quanto dei rilievi effettuati dopo il terremoto del 2016 avrebbero evidenziato problemi di stabilità per questi tre edifici che si trovano in via Lago di Borgiano e dunque in nottata è stata firmata dal sindaco di Pescara l'ordinanza di sgombero. E poi vedete la fotonotizia, si parla di uno degli chef più famosi al mondo, Bottura, che cucinerà in Abruzzo a Civitella del Tronto per la solidarietà. Poi tra l'altro vi preannuncio che vedremo anche un servizio in merito. Nelle cronache di Pescara si parla di politica, maggioranza senza numeri, sindaco sotto assedio, convoca i consiglieri e poi il calcio con il Pescara che prende Gans e Cappelluzzo. Praticamente concluse queste due operazioni per Cappelluzzo si tratta tra l'altro di un ritorno in riva all'Adriatico e poi ancora Pescara, truffa, resort, patteggiamento bocciato. E poi la vicenda delle ombrelline nella due giorni sul Monese di Fonderia Abruzzo. C'è stato anche l'intervento ieri del Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, che ha detto brutta immagine, un salto indietro. E poi amori sotto l'ombrellone, Allegri e Ambra e Passione, l'allenatore e l'attrice, sono la nuova coppia dell'estate. Dunque una notizia questa che indirettamente riguarda anche Pescara, essendo stato Massimiliano Allegri giocatore della formazione bianca-azzura, torna spesso in Abruzzo l'attuale tecnico della Juventus. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo. Coppa blindata stasera si parte. Misura di sicurezza per la sfilata dell'Interamini a Teramo. Caccia al braccialetto per entrare in piazza. E poi la tragedia di Roseto. Il bambino di sei anni ha negato due giorni fa in un tratto di spiaggia. Come leggiamo qui da questo titolo, il mare non è sorvegliato. E poi ad Alba Adriatica, a caso Fadani, altri 18 mesi ai tre Rom. E poi il delitto della dottoressa dell'ospedale di Sant'Omero, Esther Pasqualoni, Gabrielli difende gli agenti. Andiamo ancora avanti, Gabrielli, il capo della polizia. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro. L'estate nera dei lavoratori d'Aico. Annunciati 135 esuberi per Chieti e Manoppello. I sindacati rispondono con lo sciopero. E poi a Vasto, ex stazioni, le ferrovie chiedono 4 milioni. A San Salvo, Casalinga, presa con la cocaina. Mentre da Lanciano una buona notizia che farà sicuramente piacere non solo ai lancianesi, perché Pino Valente, il vice sindaco di Lanciano, è stato dimesso dall'ospedale dopo dei problemi di salute. Andiamo ancora avanti per andare a vedere l'edizione dell'Aquila del Centro. In questo caso l'apertura è dedicata alla cronaca. Maxi truffa con le auto, 20 indagati. E poi ancora l'Aquila, prima mossa del sindaco Biondi, edifici scolastici sicuri. Dunque si guarda e si pensa all'edilizia scolastica in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico. Ci sono ancora due mesi di tempo, ma è chiaro che è giusto partire con largo anticipo. Poi a Vezzano, un movimento civico per Di Pangrazio. Si parla di post-elezioni, ci sono ancora delle polemiche. Mentre a Sulmona, telecamere nelle chiese contro i furti. Andiamo ancora avanti. Siamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. In questo caso l'apertura in alto, vedete, è dedicata alla cronaca. Anche sul messaggero si parla di questa truffa delle auto tedesche. L'Aquila accusati di associazione per delinquere, per una maxi-evasione dell'IVA. E dunque c'è stata questa operazione della Guardia di Finanza. Vediamo in alto qualche notizia che riguarda in questo caso gli spettacoli. A Roseto opera prima Simona Izzo per il Via alla Rassegna. Ieri la presentazione della Kermes Rosetana. E poi teatro Federico Fiorenza. Grande ritorno, cresce il progetto Circuito Spettacolo. Mentre a Pescara questi sono i giorni che ci porteranno al Flaiano, alla serata finale. Ieri sono stati resi noti i nomi dei vincitori delle sezioni cinema, tv, radio. Con Anna Foglietta, Amendola, Giallini, ma anche Alberto Angela e tanti altri. Un parterre davvero di grande prestigio per la serata finale del Flaiano. Andiamo a centro pagina. La maggioranza è senza numeri, paralisi in regione, assenti tre dissidenti, salta il Consiglio. Caso Ombrelline, duro post, lo abbiamo visto anche dalle pagine del centro, duro post del presidente della Camera Boldrini. E poi Pescara si fa in salita alla strada di Alessandrini. Abbiamo visto problemi anche per la giunta del sindaco di Pescara. E poi a tal proposito vedremo anche un servizio. Pagine di storia, quella magica domenica di 40 anni fa, perché 40 anni fa il Pescara e tutto l'Abruzzo festeggiarono la storica promozione, lo storico traguardo della Serie A con i 40.000 di Bologna. E poi in basso l'Arta, l'ex direttore, risarcirà lente. Lo ha deciso la Corte dei Conti. Andiamo a vedere, infine, l'ultima prima pagina che pendiamo in esame. Si tratta della prima pagina del quotidiano della città. La Lorenzina Teramo Perester, anche il Ministro della Salute, parteciperà alla cerimonia di intitolazione dell'ospedale di Sant'Omero all'oncologa Rosetana. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Poi tra poco torneremo a dare uno sguardo, come sempre, alle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Ora, come di consueto, invece ci concentriamo sulla rassegna stampa nazionale, partendo dal Corriere della Sera, per vedere in questo caso quali sono i titoli trattati nel giornale. i migranti scontro con Vienna, l'Austria schiera, i blindati al Brennero, Roma convoca l'ambasciatore. E poi, vedete più in basso, il test in Corea del Nord, l'Arabia di Trump, dice agiremo da soli il Presidente degli Stati Uniti, Kim, e il lancio del missile che può colpire l'America. Dunque, tensione altissima tra Washington e Pyongyang. Andiamo avanti, Repubblica, Ius Soli, il governo pronto alla fiducia, migranti sull'Italia, il gelo dell'Europa. E anche Repubblica parla del supermissile di Kim che sfida il mondo. Trump, ora basta, possiamo agire subito. Dunque, venti di guerra nella penisola coreana. Siamo la stampa di Torino, migranti, lite, Italia-Austria sul Brennero, Vienna, schieriamo i blindati, Roma convoca l'ambasciatore. E poi, invece, vedete, con corredo di foto si parla dell'incontro tra il primo ministro cinese Xi e il Presidente russo Putin. Prove d'intesa per il G20. E poi una notizia che riguarda Charlie, la bimba afflitta da una rara malattia. La mamma telefona all'ospedale Bambin Gesù di Roma e dice Portate il mio Charlie a Roma e dunque si parla di questa vicenda che tante discussioni, tante polemiche sta creando. D'altronde c'è stata anche questa offerta proprio dell'ospedale Bambin Gesù di ospitare questa piccola creatura affetta da una malattia molto rara. Proseguiamo, il messaggero di Roma, migranti, l'Austria schiera i blindati e poi la vicenda di Charlie, accogliete Charlie, non di Londra, però al Bambin Gesù. E poi, libero, militari contro i profughi, l'Austria schiera l'esercito, al Brennero dunque tensione tra il governo di Vienna e l'Italia. E poi siamo al giornale, Carri armati al Brennero, anche l'altro quotidiano vicino al centro-destra parla di questa vicenda. Anche l'Austria, scrive il giornale, chiude agli immigrati. E poi in alto due titoli che riguardano la politica e un decreto che sarebbe in arrivo. Il piano fiscale dei 5 Stelle e Grillo prepara la supertassa per chi guadagna 3.500 euro. E poi il decreto in arrivo e il governo ci allunga la vita e ci manda in pensione. Ha 70 anni e poi, vedete questo articolo a centro pagina, in ciabatte da Papa Francesco, lo scivolone della Boldrini. Vedete questa foto del quotidiano Il Giornale. Proseguiamo, il mattino di Napoli, migranti, l'Unione Europea apre, l'Austria si blinda. E poi, il tempo di Roma è tutta colpa del portiere. Italia divisa sul Baby Donna Roma, il tormentone estivo, tanti soldi, onore e cattivo esempio. Vola Ibiza sul Jet e rinuncia al diploma. Al Milan si porta pure il fratello che intascherà un milione. Dunque, meglio andare in vacanza che prendere il diploma di maturità. Almeno da come leggiamo qui dal quotidiano Il Tempo. E poi siamo al fatto quotidiano. Sbarchi, Europa e Italia fanno a gara a chi fa di meno. E poi c'è un ricordo, vedete in basso, di Paolo Villaggio, l'attore morto due giorni fa. Paolo Villaggio inedito. Torno fra 30.000 anni. Ci sarà ancora, perché ovviamente il personaggio di Fantozzi, impersonato proprio da Paolo Villaggio, resterà una pietra miliare del cinema italiano. Siamo al secolo XIX. Migranti, scontro Roma-Vienna, mezzi corazzati austriaci al Brennero, la Farnesina, convoca l'ambasciatore. E poi vaccini, meno obblighi e sanzioni più leggere. Cambia il decreto per l'iscrizione a scuola. Siamo al sole 24 ore, via libera dell'Unione Europea, al salvataggio del Monte dei Paschi. Siamo ad avvenire. L'Austria paura dei poveri migranti, esercito e blindati al confine. Roma protesta, scrive il quotidiano della CEI. E poi più in basso, Charlie, Londra dice no all'offerta del Bambin Gesù. E poi ancora più in basso, lo Stato torna in banca al 70% in Monte dei Paschi. Il quotidiano, il dubbio, scontro sulla corruzione. PD e Forza Italia in rotta di collisione. Il gazzettino di Venezia, in alto si parla di banche. La Lega dice banche, il decreto passerà, ma tuteliamo i soci. E poi a centro pagina, migranti. L'Austria schiera i blindati. Dunque polemica per questa decisione del governo austriaco. Anche la gazzetta del Mezzogiorno parla di questa vicenda. Migranti, l'euro contentino. L'Austria rafforza le sue frontiere. Grave crisi diplomatica con Roma. Il Papa soccorre l'Italia e bacchetta l'Europa. I rifugiati vanno aiutati, ha detto il Pontefice. Poi il quotidiano La Verità. Tornano i Panzer al Brennero per obbligarci a tenere gli immigrati in Italia. E poi a centro pagina, vedete, un titolo che riguarda la questione banche. Perché scrive la verità nel decreto per le banche venete a girate 37 leggi. Questo era l'ultimo giornale, l'ultimo quotidiano nazionale che prendiamo in edicola nella rassegna stampa nazionale. Poi torneremo a parlare di sport nella pagina sportiva e andremo a vedere anche i titoli dei tre quotidiani sportivi nazionali oggi in edicola. Ritorniamo al centro, vediamo le pagine interne. Baratto in Abruzzo, accordo tra imprese per scambiarsi i servizi. La società di credito commerciale Abrex amplia il circuito con la CNA. Tal proposito, due giorni fa c'era stata la conferenza stampa di presentazione di questa iniziativa. Vi avevamo proposto proprio le interviste con il direttore general, l'amministratore delegato di Abrex e con il direttore della CNA, Graziano Di Costanzo, che vedete insieme a Italo Lupo, presidente della CNA e all'inventore del circuito Abrex, Angelo Dottavio. Presente anche Luciano Fiore in questa foto, amministratore delegato di Abrex. 13 realtà regionali con Sardex, esempio pilota, niente soldi, gli acquisti si pagano con i beni prodotti. E questa è la novità che propone Abrex, dunque nessun utilizzo di moneta ma pagamento con beni. E intanto in basso si parla di utilizzo della moneta perché resiste il contante per abitudine o per evitare controlli. Questo è il rapporto della Banca d'Italia. Andiamo avanti, emergenza profughi, l'Austria blinda, il Brennero, abbiamo visto i titoli su questa vicenda, su tutti i giornali. Oggi ne dicono, poi scontro politico, codice antimafia frenata al Senato e poi Corea del Nord, il nuovo missile di Kim può arrivare ovunque. Venti di guerra tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Ma noi siamo alle pagine della cronaca regionale, il convegno delle polemiche, Boldrini quegli ombrelli, brutta immagine, il presidente della Camera dei Deputati critica la scena di Sulmona, Acerbo incalza il governatore, a Pescara in arrivo, un flash mob. E poi Corte d'Appello di Perugia, Sanitopoli, slitta a settembre il nuovo processo a Del Turco. E poi in basso, trasporti 15 milioni prendono il volo, il Consiglio regionale salta, ma pettinari del Movimento 5 Stelle, Scova, l'emendamento, salva Saga. E poi via libera dell'Unione Europea, Monte dei Paschi, sarà dello Stato. Abbiamo visto i titoli per quanto riguarda questa vicenda. Lasciamo un attimo il centro per andare a vedere il messaggero, le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero. Poi torneremo ovviamente a vedere le pagine del centro. Tra l'altro, a proposito di sport, vi dicevo che nell'ultima parte parleremo della pagina sportiva e soprattutto parleremo in questo caso del Pescara e del Teramo, perché il Pescara ha portato a segno due importanti operazioni di mercato con l'arrivo di Gans e il ritorno di Cappelluzzo dal Verona. E tra l'altro, per quanto riguarda il Teramo, ieri c'è stata la presentazione ufficiale allo stadio Bonolis del nuovo direttore generale. Si tratta di Emilio Capaldi. Andremo ad ascoltare al microfono di Andrea Costantini proprio le parole del neo direttore generale Biancorosso. Siamo all'inserto Abruzzo del messaggero. Il Consiglio regionale, ridotto alla paralisi, maggioranza fantasma, i dissidenti del centro-sinistra mandano i certificati, la seduta salta. E poi D'Alessandro dice che se c'è un problema politico lo affronteremo. Queste le parole dell'esponente del centro-sinistra e del PD in particolare. Poi cresce il progetto del circuito spettacolo. Fiorenza dice che la regione deve farne parte. E poi Sanitopoli, rinvio per il processo bis del Turco a settembre, la decisione sull'associazione a delinquere. Siamo a Pescara. Quando tutta Pescara si sentì in Serie A, 3 luglio 1977, con la prima promozione di 40 anni fa, la locomotiva adriatica corona il boom del dopoguerra. Una pagina storica dello sport, non solo pescarese, ma regionale. Poi il ricordo di Bruno Nobili. Io c'ero per me quella data. È sempre festa. E poi Flaiano, Anna Foglietta e le altre stelle per la presentazione dei vincitori dell'edizione 2017. Dei premi internazionali Flaiano. Ci saranno tanti big alla serata finale del 9 luglio a Pescara, in piazza della Rinascita. Il sindaco alla resa dei conti. Siamo ancora a Pescara. L'opposizione dice si dimetta dopo il brutto scivolone sul cimitero. Alessandrini riunisce oggi il gruppo PD, il centrodestra e il Movimento 5 Stelle Uniti. Pescara vittima delle faide del centrosinistra. E noi su questa vicenda andiamo a vedere il servizio di Andrea Costantini con l'intervista al capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia, Marcello Antonelli. Marcello Antonelli, il giorno delle riflessioni. A poche ore dalla fine di un Consiglio Comunale, dove la maggioranza è andata in grandissima difficoltà, ma la gestione dei cimiteri, lei ha detto che è un po' il caso Sbelli, ma in realtà c'è altro da dire. Sì, abbiamo ricordato che siamo di fronte di fatto a un atto che non ha grande rilevanza politica. Ha una grande rilevanza dal punto di vista amministrativo, perché tenere chiuso il cimitero di San Silvestro è evidente questione che riguarda un po' tutti i cittadini. Però sul piano politico non c'erano grandi distensi, quindi quella è stata l'occasione all'interno della quale sono esplose tutte le contraddizioni, le divisioni che ci sono all'interno della maggioranza, che non riguardano solo la lista Teodoro, ma anche consiglieri comunali del Partito Democratico e anche consiglieri comunali delle liste civiche. Insomma, un quadro assolutamente confuso e che si può sostanziare semplicemente dal fatto che Alessandrini e la sua aggiunta non hanno più una maggioranza in consiglio comunale e quindi noi vogliamo dire alla città che c'è grande preoccupazione, perché a due anni dalle elezioni giungere già in questo stato comatoso significa di fatto paralizzare la città. E Pescara non se lo può permettere, come tutte le città d'Italia, e soprattutto riteniamo che vada scritta una pagina nuova, delle due l'una, o Alessandrini si dimette e lascia la parola ai cittadini pescaresi, agli elettori pescaresi, oppure viene in consiglio comunale e rivede completamente l'assetto della sua amministrazione, che è anche molto scadente dal punto di vista qualitativo. A tal proposito state anche lavorando per una mozione di sfiducia, proprio per indurre il primo cittadino a venire a parlare in consiglio comunale e vedere se c'è una maggioranza ancora. Assolutamente sì, poiché Alessandrini fa finta di niente, mi pare che l'atteggiamento sia di quello che mette la testa sotto la sabbia, facendo finta che nulla sia successo, non è così, noi siamo, ripeto, preoccupati del fatto che si vogliono far passare due anni in queste condizioni, non glielo permetteremo né Alessandrini né ai suoi, quindi stimoleremo ogni dibattito possibile che sia utile a fare chiarezza e se non ci sono le condizioni numeriche Alessandrini dovrà prenderne atto, ridare la parola ai cittadini pescaresi. Queste le parole di Marcello Antonelli, noi in questo ping pong tra il messaggero e il centro, torniamo sul centro sempre dalle pagine della cronaca di Pescara, degrado ed abbandono, dormitori in centro con accento disperati, vedete le foto di quelle persone che vivono proprio a due passi dalla stazione ferroviaria, e poi residenti, noi costretti ad abitare in mezzo ai bivacchi, poi il centro ovviamente parla della crisi in comune, Alessandrini e consiglieri, ora la misura è colma, abbiamo ascoltato a tal proposito il centro-destra che chiede al sindaco o le dimissioni o di riferire in consiglio comunale. E poi sosta automatizzata all'ex stazione, pronto il progetto per migliorare il servizio nell'area di risulta. E poi autobus notturno per la Movida, questa è una novità presentata ieri, corse della linea 21 tra Pescara e Francavilla fino alle 4 del mattino. Possiamo andare a vedere il servizio che su questa questione positiva, bisogna dirlo, di cui si è parlato ieri in comune a Pescara abbiamo realizzato, vediamo. È un progetto cui teniamo molto perché in realtà ci abbiamo lavorato da tempo, addirittura io sin dal 2009, tempo della mia prima campagna elettorale da sindaco, avevo questo obiettivo in testa. Quello cioè di garantire una modalità di trasporto da Pescara a Francavilla che sia realmente alternativa, che vada incontro alle esigenze rappresentateci essenzialmente dalla popolazione giovanile, quella cioè di muoversi di notte in maniera tranquilla, sicura. Un autobus costa giusto il prezzo di un biglietto, non pone problemi di parcheggio, non pone problemi di ritorno a casa. Adesso iniziamo con Francavilla, ma l'ambizione è di poterla estendere lungo tratti più ampi, naturalmente faccio riferimento a Montesilvano. Diciamo che abbiamo pensato ai nostri ragazzi, c'è questo spostamento continuo tra le città di Francavilla e Pescara, ormai è un'unica area metropolitana, la possiamo definire, quindi c'è sempre questo tema della sicurezza, ci siamo preoccupati appunto di dargli un mezzo sicuro, l'autobus di Tua, che potranno prendere dal 7 luglio al 20 agosto tutti i giorni fino alle 4 del mattino. Io credo che sia fondamentale la sicurezza e il concetto di mobilità sostenibile, è un disincentivo all'utilizzo dell'automobile ed è anche un servizio ai cittadini per potersi spostare dopo le 10.30 e poter raggiungere ad esempio le varie stazioni, l'aeroporto e quindi credo che sia un atto fondamentale anche di modernità. Sarà un collegamento che partirà dopo le 23 ogni 35 minuti fino alle 2 di notte per riprendere alle 4 del mattino, però sarà anche un collegamento sicuro diciamo perché specie per i primi giorni sarà anche controllato da guardia giurata perché insomma vogliamo garantire che i ragazzi che prenderanno l'autobus siano tranquilli anche in questi trasferimenti. Lo faremo tutti i giorni fino al 20 agosto per poi farlo soltanto di venerdì e sabato fino al 31 dicembre. Quindi insomma, ragazzi va bene in discoteca, avranno un mezzo pubblico per muoversi che sarà anche un mezzo sorvegliato. Andiamo avanti sempre dalle pagine del centro, cemento impoverito, siamo sempre a Pescara, tre palazzi Ater a rischio sgombero ma vi abbiamo dato proprio all'inizio di questo appuntamento di oggi con Mattino 6 che in nottata è arrivata la firma del sindaco Alessandrini per lo sgombero di tre palazzine Ater in via Lago di Borgiano. Andiamo ancora avanti, truffa del resort di lusso, no al patteggiamento inchiesta sulla realizzazione di un complesso turistico a Santo Domingo e Nel Belize, bocciata la richiesta di due promotori finanziari pescaresi finiti ai domiciliari. E poi nodulo polmonare, nasce a Pescara un gruppo di ricerca e poi in basso si è all'accordo con gli angeli del soccorso firmato il disciplinare tecnico sui disastri e i salvataggi in mare tra federpiloti e capitaneria. Noi su questo importante protocollo firmato ieri abbiamo realizzato un servizio che andiamo a vedere. Miraglio, oggi presentate questo importante protocollo, questo accordo che prevede importanti novità per quanto riguarda le operazioni di salvataggio in mare. Non è tanto una novità quanto praticamente alla formalizzazione, la standardizzazione di interventi di soccorso fatti non soltanto da noi, chiaramente siamo deputati a farlo, ma insieme ai nostri servizi tecnico-nautici che sono i piloti e gli ormeggiatori. Vi sono stati dei casi in Italia dove ricordiamo un cargo che nel canale di Otranto era stato abbandonato dagli scafisti con 900 migranti a bordo. Questa nave sarebbe andata a schiantarsi sulle scogliere di Ugento e soltanto grazie all'intervento del nostro personale calatosi dall'elicottero è stato preso il controllo della situazione, è stata salvata la nave, le 900 persone e l'ambiente chiaramente non ha risentito di questa potenziale minaccia. Vogliamo standardizzare, stiamo standardizzando queste procedure insieme ai piloti e agli ormeggiatori che seguiranno presso questa base aerea del terzo nucleo aereo di Pescara, così come presso la base del primo e del secondo nucleo aereo rispettivamente di Sarzana e di Catania, un training, un addestramento proprio per potersi calare dai nostri elicotteri e svolgere questo tipo di operazioni quando ci dovessimo trovare di fronte a situazioni del genere che richiedono questo tipo di intervento. Parliamo, ammiraglio, di situazioni che sempre più spesso si creano in mare. Sì, possono crearsi, ma per citarne un'altra che è venuta qui, che è riguardato anche Pescara, nel 2013 una nave incendiata proveniente da Partiglia d'Aravene che andava in Romania è stata abbandonata dall'equipaggio che si è sottratto chiaramente all'incendio e questa barca andava alla deriva. L'abbiamo monitorata, è stata monitorata, io non ero ancora direttore marittimo, dai colleghi per un giorno e mezzo, quando la temperatura era tale da consentire la possibilità di salire a bordo, siamo saliti a bordo, abbiamo passato un cavo a rimorchiatore e la nave è stata portata in salvo senza che ci fossero problemi particolari per l'ambiente marino. Questo è il servizio sul protocollo firmato ieri in aeroporto a Pescara. Noi ora ci fermiamo per qualche istante, andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore, poi di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, eravamo alle pagine del quotidiano Il Centro che continuiamo a sfogliare, c'è l'inserto Aquilone con l'articolo dedicato a Massimo Bottura, Civitella del Tronto, Micucino Labruzzo, il grande chef protagonista venerdì 7 luglio di una serata all'insegna di cibo e beneficenza, a tal proposito proprio ieri avevamo mandato un servizio nel nostro Tg della nostra Tania Bonnici Castelli proprio su questa importante e benefica iniziativa di Massimo Bottura. Andiamo avanti perché sempre nell'inserto dell'Aquilone del Centro vediamo un articolo, una pagina dedicata ai premi Flaiano perché sono stati resi vincitori della 44esima edizione dei premi, la cerimonia di consegna si svolgerà domenica in Piazza Salotto a Pescara. Grandi nomi per questa 44esima edizione, noi andiamo a vedere proprio il servizio che abbiamo realizzato in merito. I 44esimi premi Flaiano si riconfermano a grande Kermes e diciamo che sono, arriviamo alla fine di questo progetto culturale che è durato un anno e come al solito c'è un grande entusiasmo e grande fermento per questa serata che il 9 luglio, come già nel 2013 e nel 2014, si svolgerà a Piazza Salotto. I premiati sono nomi di rilievo sia nel teatro, nel cinema, nella televisione, nella radio e nella letteratura. Ci sarà Claudio Amendola per il cinema, tra l'altro come sapete lui ha girato parte del film qui a Pescara, quindi per noi è un elemento importantissimo averlo premiato ed essere premiato per il Flaiano. Poi ci sarà Beppe Severgnini per il suo programma radiofonico che ha discosso molto successo. Beppe Severgnini non ha bisogno di presentazione, è un grandissimo giornalista e tra le altre cose cura a Milano una scuola di giornalismo e questo è un elemento che sicuramente gli fa onore. Poi ci sarà per il teatro anche Sabina Impacciatore, un'attrice che non era sicuramente nata per un percorso teatrale ma che invece ha avuto un successo molto importante quest'anno partendo con la sua peste teatrale da Roma. Ci sarà poi un importante rappresentante della televisione? Crediamo che Angela abbia in questo momento forse utilizzato il mezzo televisivo nel migliore dei modi, cioè nel modo divulgativo perché ci ha fatto conoscere una Venezia notturna che ha avuto non soltanto un successo di ascolti ma che ci ha svelato cose che forse nemmeno immaginavamo di questa meravigliosa città. Dunque una parata di big domenica sera in Piazza della Rinascita per la consegna dei premi Flaiano. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Montesilvano del centro, la città si illumina per la notte dello shopping, venerdì l'appuntamento fino alle 2 del mattino. Poi in basso, grande festa per il ventennale, i ragazzi scout di Montesilvano 2 animano le celebrazioni a Villa Carmine. Andiamo avanti, Ecomostro e 7 alberghi diventano alloggi sul mare. Siamo a Francavilla in questo caso dove 8 titolari di fabbricati abbandonati accolgono l'offerta comunale di uno sconto del 50% per i cambi di destinazione d'uso. Si prevedono entrate tra 1 milione e mezzo e 2 milioni di euro. E poi Pianella, Michetti difende l'adamico, siamo alle questioni politiche del piccolo centro in provincia di Pescara. E poi a Spoltore, per me è un sogno che continua, Dilorito, il rieletto sindaco di Spoltore giura in consiglio e annuncia il programma dei 5 anni. Poi il Rotary Club di Francavilla, Cianci lascia, Martelletto a Ricciuti. Proseguiamo, siamo alla pagina della provincia di Pescara, Stadio Impianti Sportivi alla società Penne 1920, questa la decisione che è stata presa proprio dal comune Vestino. Poi Penne senza fondi al sociale, scontro con Carpineto. E poi a centropagina la cisterna dell'Orta, non è una piscina, Crisante, ex presidente del WWF sollecita una maggiore tutela, ma i 68 multati chiedono più segnalazioni. E poi in basso abbateggio la pera, gemellaggio e contributo dell'Unione Europea per 14 mila euro. Siamo alla pagina di Chieti, del centro Daico, l'azienda annuncia 135 suberi, i sindacati rispondono dando il via a quattro giornate di sciopero dopo l'incontro in Confindustria con l'amministratore delegato Orlando. E poi a Lanciano il vice sindaco Pino Valente dimesso dall'ospedale fuori pericolo dopo l'infezione. Poi ex stazioni, le ferrovie chiedono 4 milioni, avviata a Roma la procedura per l'acquisto di 30 immobili, ma Regione e Comuni trattano sul prezzo. E poi in basso Chieti, patto per gli autobus salvamo vita, da settembre corse notturne tra Scalo e Colle per 3 giorni su 7, un'iniziativa simile a quella che è stata presentata ieri a Pescara per il collegamento tra Pescara e Francavilla. E poi a San Salvo la cronaca casalinga presa con la cocaina aveva 100 grammi di droga in auto, arrestata e poi scarcerata. Siamo all'Aquila, sequestri per un milione, maxitruffa con le auto, 20 indagati per questa operazione della Guardia di Finanza. E poi Orsa mangia 10 conigli, filmata nella fuga in basso sul Mona, furti nelle chiese, arrivano le telecamere. Siamo alla pagina di Teramo che non poteva che aprirsi con la coppa in Teramnia, caccia al braccialetto per entrare in Piazza Martiri. Questa sera la sfilata inaugurale scattano le imponenti misure di sicurezza contro il rischio di incidenti dalle 17 di vieto di vendita di bevande in vetro, restrizioni anche per la serata di Miss e Mister in Teramnia. E poi in basso il bimbo annegato a Roseto, ricorderete questa vicenda di due giorni fa, questa tragica vicenda. Lì il mare non è sorvegliato, il capo dei bagnini dice chiederò di mettere boe per vietare i bagni. E poi torniamo sulla vicenda, anche questa tragica dell'oncologa assassinata a Santomero. Il capo della polizia, Gabrielli, difende l'operato degli agenti. Lasciamo le pagine del centro per poi tornare nell'ultima parte a parlare di sport e torniamo invece sul messaggero in questo caso per andare a vedere le pagine delle cronache provinciali. Siamo a Pescara, il sindaco alla resa dei conti, l'opposizione dice si dimetta. Abbiamo visto l'intervista di Andrea Costantini a Marcello Antonelli, esponente del centro-destra. E poi l'Abruzzo alla conquista di Milano con la borsa enogastro-turistica. E poi sospiri Valentinetti, scontro sull'ospitalità ai migranti. C'è stato questo botta e risposta tra l'arcivescovo della diocesi Pescara Penne, l'esponente, il consigliere regionale di Forza Italia, sospiri. E poi in basso ancora cronaca, nuovo maxi sequestro di giocattoli antistress da parte della Guardia di Finanza. E poi la polizia ferroviaria in azione alla stazione di Pescara, profugo a spasso lungo i binari, fa bloccare la linea ferroviaria. Proseguiamo, ancora area metropolitana di Pescara, in questo caso siamo ancora a Pescara, rischio di sgombero per tre palazzine Ater. Come abbiamo visto nella notizia che vi abbiamo dato in apertura, questa notte è arrivata la firma del sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Verranno sgomberate nelle prossime ore queste tre palazzine in via Lago di Borgiano. E poi bus della Movida con DJ e vigilanti, corse dalle 23 alle 4 sulla linea 21 che collega Pescara a Francavilla al mare. E poi a centro pagina vicenda Eco M dopo dieci anni ancora rinvii e poi gli appuntamenti e spettacoli del weekend, Miss e Notti Bianche. L'estate entra nel vivo a Montesilvano. E poi scuole accorpate, la vittoria di Civitacuana perché ieri è arrivata la sentenza, la risposta del Tar che dà ragione, ne avevamo parlato anche nel nostro Tg, dà ragione ai comuni che avevano chiesto l'accorpamento della scuola. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dal messaggero auto dalla Germania, Maxi Truffa, scoperta un'evasione fiscale da un milione di euro, questa importante operazione della Guardia di Finanza. E poi anche due finanzieri finiscono nei guai per aver messo sull'avviso gli indagati. E poi andiamo in basso, nella parte bassa della pagina per parlare di sanità e di lavoro. Ospedale, manca il personale, l'UGL evidenzia alcune criticità al San Salvatore, già doppie notti e rinunce ai turni di riposo. E poi, reliquia rubata dalla Curia, arriva il perdono per l'autore del furto nel santuario di San Pietro della Ienca. Proseguiamo, siamo alla pagina, ancora un'altra pagina dell'Aquila, sempre dal messaggero. Scuole, primo vertice con il sindaco Biondi che dice evitare doppi turni. E poi nuova giunta, Forza Italia fa un passo indietro. E poi, Anatra Zoppa, cesso agli atti, sarebbe pronto il ricorso al Tar. Proseguiamo, Antica Fontana, San Bernardino, spunta un reperto del Medioevo dai lavori dei sottoservizi. E poi, per quanto riguarda il cratere, il prefetto Linardi assicura un intervento. Siamo alla pagina di Avezzano sul Mona. Nuovo municipio fu truffa programmata ad Avezzano, secondo le motivazioni della sentenza. Per il GIP fu tutto preordinato in modo da poter aumentare i costi. Servono ancora 7 milioni e mezzo per completare l'opera realizzata nei pressi della Chiesa dello Spirito Santo. Questa vicenda che riguarda Avezzano. Ancora Avezzano, altra truffa online, stampante vuota, venduta come nuova. Ci spostiamo a Sul Mona, invece, reparto per i detenuti in ospedale. Lui l'attacca, mentre per quanto concerne murales e sporcizia, i vandali sono arrivati all'eremo. Tornando ad Avezzano, ferrovia, le fiamme bloccano il treno. Il treno che attraversa l'importante tratta che collega la Marsica da una parte con Roma e dall'altra con la costa e con Pescara. Poi Parco Nazionale d'Abruzzo, l'Orso Stefano, la morte. Resta un giallo. Infine, l'ultimo articolo che riguarda ancora Avezzano, la politica, perché l'ex sindaco di Pangrazio presenterà il ricorso e anche una interrogazione proprio sulla questione riguardante le ultime elezioni amministrative che hanno portato all'elezione del nuovo primo cittadino di Avezzano, De Angelis. Siamo alla pagina di Chieti, del messaggero pestata per anni davanti ai figli, Maxi condanna, vedete questo titolo in apertura di pagina, al marito violento, il giudice infligge all'uomo cinque anni. E poi lavoro, Daico, annuncio shock, comunicati 135 esuberi e poi incidente stradale sulla Fondovale Alento, feriti tre ragazzi. In basso Passo Lanciano Maielletta, 20 milioni per il decollo. E poi si parla di università perché il rettore dell'università d'annunzio Sergio Caputi dice sì ai corsi alla ex caserma bucciante, ma il rettorato non andrà sul colle. Siamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona, Sasi, conti ok e piano estivo anti siccità, bilancio consuntivo approvato con 100 mila euro di attivo. E poi ad Ortona, autoblusata per fini personali, Basti condannato a risarcire l'arta. L'ex dirigente dovrà versare 2 mila euro. La vicenda penale si era chiusa per prescrizione. Ancora Ortona, multe scomparse, Poeta restituisca 60 mila euro. La procura della Corte dei Conti contesta un danno errariale all'ex comandante della polizia locale. Poi restando nella cittadina ortonese, il neosindaco Leo Castiglione al teatro Tosti per l'esordio del consiglio comunale. Infine a San Salvo, casalinga insospettabile, arrestata perché trovata in possesso di cocaina. Siamo alle pagine di Teramo e della provincia, sempre dal messaggero, cimitero, padiglioni inagibili, proteste polemiche politiche. E poi vedete di spalla, sempre sulla pagina dedicata alla cronaca di Teramo, un convegno da incubo per 250 medici di famiglia. Annullato l'evento, organizzato dalla ASL, il sindacato dei medici interviene e dice ora chi pagherà i danni erariali. E poi casa di riposo dei Benedictis, nessuna intossicazione, così i risultati dell'inchiesta. E poi politica nel caos a Teramo, lo sfogo del consigliere Campana che dice ora basta, dimettiamoci tutti. E siamo alla pagina del litorale, partiamo da Roseto. La morte di Elidion è stata una fatalità. Oggi alle 17 i funerali del bambino di sei anni ha negato niente autopsia per la procura, non ci sono indagati. E poi Giulianova, blitz sulla spiaggia di un arresto per droga e sempre a Giulianova al via una mostra fotografica sugli antichi mestieri. Varato il programma di fine legislatura dal sindaco Mastro Mauro, mentre ad Alba Adriatica sono state aumentate le pene per il caso Fadani. Un anno e mezzo in più per i tre uomini ritenuti colpevoli. Infine torna il festival Roseto Opera Prima, giunto alla sua 22esima edizione. Ieri nel corso del nostro telegiornale vi avevamo mostrato il servizio proprio sulla presentazione della importante Kermes Rosetana. Siamo arrivati alle pagine dello sport anche sul messaggero, ma dobbiamo andare a leggere insieme invece le pagine interne del quotidiano La Città. Poi parleremo nell'ultima parte di sport, soprattutto di calcio, con Pescara e Teramo. Siamo a pagina 3 del quotidiano La Città. Si parla di cronaca, cronaca regionale che arriva dall'Aquila in questo caso. Truffa milionaria sull'import di auto usate. Blitz della Guardia di Finanza. E poi Pescara, numeri positivi per l'aeroporto, passeggeri in crescita del 25%. In basso, politica, duro attacco di Forza Italia e Movimento 5 Stelle dopo il nuovo rinvio del Consiglio regionale. D'Alfonso non ha più i numeri per governare la regione, dicono le opposizioni. Andiamo avanti. La dottoressa Uccisa, anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, a Teramo per Esther Pasqualoni. Il ministro prende la parte alla cerimonia di intitolazione dell'ospedale di Sant'Omero. Andiamo avanti. Malori alla casa di riposo. Le analisi di Brescia scagionano la mensa. Gli esami escludono la presenza di cibi contaminati tra quelli serviti agli ospiti della De Benedictis. E poi, servizi ai cittadini, nasce a Teramo l'Associazione contro l'usura bancaria. In basso si parla di salute con lo zoo profilattico che pianifica gli obiettivi incontrando enti ed istituzioni. Teatro, Brucchi ed Amico fanno i pompieri. Il sindaco ed il rettore intervengono nella disputa tra due compagnie teatrali sul comunale, chiedendo buonsenso. E poi ancora a Teramo poche richieste, niente pulmino per la richiesta per la colonia estiva. Housing, il paradosso dei residenti di Via Longo. Il Comune propone alloggi alternativi a chi ha un tetto, ma niente per gli sfollati del terremoto. E poi la denuncia della consigliera comunale di opposizione, Laria De Sanctis, che dice il cimitero è ancora vietato ai Teramani. In basso sanità, medici contro l'Asd per il corso annullato. L'aggiornamento rinviato per gravi carenze organizzative. Ginobel e D'Alfonso, mai stati così vicini dopo il commissariamento del PD terramano, un nuovo dialogo tra l'onorevole e il governatore della regione. E poi Abruzzo Civico, Siriano Cordoni, si fida solo di una parte dei democratici. In basso a Teramo, i fuoriusciti del PD creano il gruppo di Insieme Possiamo. Andiamo avanti, pagina della provincia, si torna a discutere del collegamento con i Prati, venerdì l'incontro a Isola del Gran Sasso, ma il progetto migliore sembra essere quello della panoramica. Proseguiamo, siamo alla pagina della Val Vibrata, omicidio Fadani, condanna bis per i Rom e poi a Tortoreto, opposizione divisa, attacco frontale di Nico Carusi al Movimento 5 Stelle. E poi Martinsicuro, esposto in procura sulla gestione dei mercatini estivi. Pagina di Giulianova, commercio abusivo, città sotto assedio, ieri mattina il blitz di Carabinieri, Polizia Municipale, Capitaneria. E poi ancora Giulianova attivata la Guardia Medica Turistica, le storie marinare all'incontro poi di giovedì in terrazza e sabato ci sarà la cerimonia del concorso fotografico Antichi Mestieri. E poi la digitalizzazione, perché a Mociano Sant'Angelo le pratiche si presentano solo via web, niente più code allo sportello per gli atti riguardanti commercio ed edilizia. Pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Partiamo da Roseto, perché oggi ci sarà l'ultimo addio, il saluto al piccolo Elidion, al sacro cuore, i funerali del bimbo annegato. Venerdì si terrà una fiaccolata. Sempre a Roseto, in basso, servizi sociosanitari salvi, arriva la proroga fino a Ferragosto. E poi la cronaca trovato in possesso di 61 grammi e di 6 piante di marihuana. Proseguiamo Cultura, Flaiano, Opera Prima vince Sabatini. Questo è il titolo che riguarda la pagina degli spettacoli del quotidiano La Città, che andiamo ad inquadrare in questo momento. Flaiano, vedete, Opera Prima vince Sabatini, ma ieri sono stati proclamati anche i vincitori. Ne abbiamo parlato, abbiamo visto anche il servizio delle sezioni radio, televisione, cinema e teatro. Andiamo avanti per arrivare velocissimamente, dopo aver visto il titolo dedicato alla cena stellata in fortezza con Massimo Bottura, alta cucina, arte e beneficenza. Venerdì sera a Civitella del Tronto, con il più famoso chef del mondo, che cucinerà proprio in questa importante iniziativa solidale. Dicevo, arriviamo alla pagina dello sport. Teramo, sette colpi per iniziare la ricostruzione. Torna Calore, che si aggiunge a Diallo, Ventola e Milillo. Incertezza su Paolucci, Fatti Alimi, Candido e Mazzocchi. In basso si parla di basket. Gli Sharks riabbracciano Roberto Marulli. Avrà la canotta numero 22. Lasciamo le pagine del quotidiano La Città. Possiamo tornare sul centro, anche in questo caso, per andare a vedere velocemente. Siamo arrivati all'ultima parte con le pagine dello sport. Siamo al centro. Pescara scatenato presso Gans, Palermo beffato. È fatta anche per Cappelluzzo. La punta, Gans, arriva dalla Juventus a titolo definitivo. L'attaccante del Verona in prestito, vicini Pessina e Valzania. Oggi Coulibaly parla con l'Udinese Pigliacelli, portiere della Pescara, va all'Avellino. E poi Illizza, Aldegani e Marini. Manca un tassello nello staff di Zeman. Chi sarà il preparatore dei portieri? Illizza, dunque Aldegani e Marini. In basso De Vincentis si riprende il Francavilla. È una notizia per certi versi clamorosi. Nessun accordo per la cessione, dice il patron giallorosso. Questa società non può scomparire. Il patron del Lanciano iscriverà al prossimo campionato i giallorossi. Vedremo se sarà Serie D con il ripescaggio. Siamo alla pagina della Lega Pro e della Serie D. Campitelli, Amadioresta, Di Paolo Antonio e Ilari Forse. Queste le parole del presidente del Teramo. Alla presentazione del nuovo direttore generale Emilio Capaldi. Che abbiamo ascoltato ieri ai microfoni di Andrea Costantini. Direttore Capaldi, un'esperienza ultrafrentennale. A Celano inizia questa nuova esperienza. Intanto come è nato il contatto e perché ha accettato? Io ho accettato con tanto entusiasmo. Il contatto e il tramite è stato Giorgio. Siamo amici carissimi ma soprattutto mi conosce per come lavoro. Quindi ha detto al presidente, ha fatto il mio nome, mi ha chiamato il presidente, mi ha convocato. Ci siamo intesi da subito, ci siamo capiti. Lui è piaciuto questa situazione qua di come abbiamo parlato. e ci siamo stretti la mano da subito. Ha detto, mi piace vedere l'attaccamento da parte di tutte le componenti della Teramo Calcio, dai giocatori fino allo staff dirigenziale. Se non fosse così parliamo di aria fritta. A Celano è una piccola realtà, abbiamo fatto grandi cose, pur stando in una piccola realtà. Come? Creando questo senso di appartenenza tra le varie componenti. E' chiaro che la componente più importante chi è? I giocatori. Loro sono gli attori, non noi. Quindi se loro capissero che è importante questo senso di attaccamento ai colori del Teramo Calcio, così stiamo bene tutti, sempre per gli interessi del Teramo, cresceranno intelligentemente anche per altre categorie. Le ho chiesto prima in conferenza un parallelismo anche con il presidente Piccone, con cui lei ha lavorato per tantissimi anni e ha creato questo miracolo a Celano. Cosa ci può dire? Piccone, diciamo, somiglia un po' al presidente. Somigliano tanto che sono due presidenti che amano la propria città. E in questo si somigliano tanto. Quindi chi ama la propria città a volte si può anche sbagliare. Nel calcio penso che quello bravo è chi sbaglia di meno, non si può indovinare tutto. Quindi qualcosa la perdoniamo, qualcosa la accettiamo. Poi è chiaro che dobbiamo anche pretendere. Scendendo un po' più nel tecnico, è chiaro che c'è questo nodo dei contratti, perché il vostro obiettivo è ringiovanire una quasi rifondazione della Rosa. Sì, noi con Giorgio la prima volta che ci siamo sentiti vorremmo dove è possibile rifondare, ma proprio dalle fondamenta, per cercare di dare un'area nuova, cercare di creare questa novità, così all'inizio con la novità vengono, vedono, può darsi che gli piace come giochiamo, può darsi che gli piace l'ambiente e i difusi si riavvicinano. E' fondamentale, senza difusi non possiamo fare nulla. E queste le prime parole del neo direttore generale del Teramo, Emilio Capaldi, a cui ovviamente va un sentito in bocca al lupo per il nuovo prestigioso incarico. Noi siamo ancora alle pagine dello sport del centro. Si parla di Serie A1 e Serie A2 di palla a mano. Ecco i nuovi gironi con Lions, Città Sant'Angelo e NHC. Sì, e poi palla a volo di A1 femminile di Julio. Io, la maternità e la voglia di schiacciare. La Marsicana tornerà in campo con il Bisonte Firenze dopo la gravidanza. Andiamo all'ultima pagina dello sport del centro. Marulli torna a Roseto, siamo al basket, c'è un lavoro da finire. Serie A2, il play dopo una stagione a Reggio Calabria. Dice, sono rimasto in contatto con il coach di Paolo Antonio. Le prossime mosse di mercato. Ipotesi Sherrod e poi Beach Volley. Nicolai Lupo in ambetta al World Tour. E poi l'Aquila Nero Verde punta al tricolore del Rugby A13. Domenica la semifinale al Centicolella. E poi il ciclismo. Il Giro d'Italia femminile arriva a Roseto. Attesa per Cipriani e per la Bastianelli Abruzzese. Siamo quasi in chiusura. Dobbiamo andare a vedere le pagine dello sport del messaggero. Lo faremo tra qualche istante. Pescara, hai scelto bene. Parla il tecnico dell'Atalanta, ex biancazzurro Giampiero Gasperini, che presenta i neo biancazzurri. E poi ufficiali gli arrivi di Palazzi e Carraro. In basso l'Interamnia riporta Teramo al centro del mondo. Oggi l'edizione numero 40 del torneo internazionale di Eppallamano, che si tiene nella città aprutina. E poi il Teramo giovane, piazza ai primi colpi. Ci sono novità di mercato, ma quella di ieri è stata soprattutto la giornata della presentazione del nuovo direttore generale Emilio Capaldi, che vedete nella foto con il presidente Campitelli. Ancora in basso si parla di basket. Roseto ufficializza Marulli. Sarà l'anno del rilancio. E poi calcio e calcio a 5. In alto si parla di calcio di serie D. L'Aquila prova a tenere Minincleri e Peluso. E poi calcio a 5. Parla il presidente del Pescara e Annascoli, che dice che la società farà un grande acquisto. Ieri c'è stata la conferenza stampa della presentazione delle maglie. Oggi nel corso del nostro Tg vi proporremo un ampio servizio sul Pescara calcio a 5. E poi col paccio del Giuliano va preso il bomber Aquino. Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo il tempo per andare a vedere le prime pagine dei tre quotidiani sportivi che sono oggi in edicola, ovvero Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Partiamo dalla Gazzetta, violano via Bernardeschi, Kalinic, Boria Valero, lasciano i Della Valle e rinforzano tre big. Fiorentina, le uscite, scuotono il mercato. Tra l'altro Fiorentina in vendita. E poi in basso Gigio sceglie Ibiza e dribbla la maturità. Restano due ostacoli tra il Milan e Raiola, ma a questo punto sembra certa la permanenza di Donna Rum in rosso-nero. E poi una notizia che riguarda il Tour, perché c'è una notizia clamorosa. Sagan cacciato dal Tour a 200 metri dal traguardo, il campione del mondo allarga il gomito su Cavendish, che cade e si frattura una scapola. Dunque clamorosa questa notizia che arriva dal Tour de France. Siamo al Corriere dello Sport, Juve C, strappo Bernardeschi, addio alla Fiorentina. In alto Maradona sbarca e infiamma Napoli. Battiamo le piccole, dice il Pibbe d'Oro e sarà scudetto. E noi chiudiamo con tutto Sport. L'assist Bernardeschi, addio a Firenze. No al rinnovo con la Viola, ora tocca alla Juve. In alto tutti vogliono il Milan. Oggi scatta il ritiro dei rossoneri, che giocheranno i preliminari di Europa League. Infine Belotti-Zapata, progetto Toro. E noi siamo giunti davvero al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo il prossimo appuntamento informativo della nostra rete, come sempre alle 14, per la prima edizione del TG6. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.